400.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria per gli istituti scolastici fanesi stanno prendendo il via in questa pausa estiva. Interventi mirati sia sul fronte edilizio per sei edifici che sul fronte della messa a norma degli impianti elettrici per le scuole di Centinarola e Montessori oltre alle materne di Tre Ponti e Maggiotti. Intervento a parte subirà il nido Il Grillo al fianco dell'Istituto Battisti dove sono stati stanziati 120.000 euro. La prima scuola a ricevere gli interventi che comunque saranno portati via in contemporanea è la Materna del Vallato dove sta già operando la ditta Guidi Giovanni incaricata degli interventi. Investiremo tantissimi soldi per le scuole materne, le scuole elementari e le scuole medie. Ovviamente una cifra importante anche su questa scuola materna qui del Vallato è una cifra importante che ci permetterà di sistemare dal punto di vista estetico anche la situazione qui fuori con una ritenteggiatura per dare anche una nuova veste a questo edificio. Poi interverremo a bonificare alcune situazioni dal punto di vista edilizio all'esterno che devono essere bonificate, sistemeremo i tetti, tinteggeremo laddove serve perché in passato ci sono state delle infiltrazioni d'acqua. Quindi saremo pronti sicuramente per la nuova riapertura con una scuola bella che renderà anche più piacevole oltre che il lavoro delle insegnanti anche la vita tra virgolette scolastica dei piccoli bimbi che frequentano questo quartiere che è molto popoloso e solo in questa scuola ci sono circa 100 bambini che vengono tutte le mattine in periodo scolastico. Perché quest'anno faremo più di 400 mila euro di interventi in diverse scuole di Fano con appunto interventi molto significativi nella scuola dell'infanzia di Vallato dove siamo in questo momento ma anche alla scuola dell'infanzia Albero Azzurro a San Lazzaro, alla scuola elementare dei Cioraggi di Ponte Metauro, scuola elementare di Cucurano, la scuola media Nuti, l'asilo nido Il Grillo, la ex scuola elementare ora adibita a Materna di Torrette. Quindi tanti interventi che però ci rendono molto soddisfatti perché finalmente riusciamo a fare degli interventi complessivamente strutturali importanti per tutta la città sull'intero territorio comunale dopo anni in cui la manutenzione sia ordinaria che straordinaria a causa delle strettezze economiche era stata abbastanza ridotta. Siamo all'interno della scuola Materna del Vallato, la prima delle sei scuole che subirà gli interventi di ammodernamento e di miglioria. Naturalmente non solo l'esterno sarà interessato di questa scuola a questa opera di riqualificazione ma anche due aule interne che avevano infiltrazioni e naturalmente hanno subito l'aggressione del tempo verranno riqualificate a tutto vantaggio dell'abitabilità e della salubrità di chi ci lavorerà dentro.